Questa mattina qui al Comune di Salerno presenteremo un nuovo spettacolo Bolli Cinema The Show, uno spettacolo unico nel suo genere, ma soprattutto uno spettacolo che vuole raccontare in chiave circense la cinematografia mondiale. Quindi partiremo dagli anni 20 col cinema in bianco e nero, poi passare al sonoro e al cinema a colori, facendo un grande passaggio all'animazione, quindi cartone animati e agli effetti speciali. Bolli Cinema vuole essere anche uno scopo sociale, infatti noi invitiamo tutti i ragazzi che oggi hanno avuto atti di bullismo, quindi noi di Bolli Cinema diciamo fate le bolle, non fate i bulli. Vi invitiamo tutti quanti al centro sociale a Pastena il 14 e il 15 di aprile in 5 repliche alle ore 17 e alle ore 20 e poi il 15 alle ore 10 alle 17 e alle 20. Bolli Cinema The Show, vi aspettiamo! Ciao, sono Marco Di Domenico, l'autore di questo spettacolo, grazie sempre all'idea di mio fratello Vincenzo Di Domenico. Ho pensato di scrivere questo spettacolo dopo aver seguito un corso a Frosinone sulla storia del cinema. Così ho pensato di spiegare la storia del cinema in una maniera in cui non è mai stata fatta, diciamo attraverso le varie arti circensi e in particolare quelle delle bolle di sapone, quindi questa storia del cinema viene spiegata così come l'evoluzione del cinema attraverso le bolle di sapone. Marco Di Domenico, l'ho detto io.